Questa è la vera scuola, il famoso picchi di Ghiardano, il quale forse è violento, rubacchiò, stiracchiò e si infadronì di tutto. Perché? Perché era amico di un prodariello, il quale piccolo prende, era amico appassionato niente, e se la piaceva col Natale, marrugheretella, la più bella ciapella di me, mi. Something in the wind, l'orella, gru, 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 under another glass, under the bed from my skin, it's okay to refer to my day, e non è un pello galla, nantatore, bomba qui, e la rima, pro, 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 com l'anchella, to, 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 e il clonicino, pio, 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 e tur, curella, gru, 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 Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio